Non si poteva scrivere un saggio su Tony Dallara senza parlare con lui, anche perché io ero un po' a conoscenza di questa sua seconda vita, ma in modo molto vago. Quindi ho chiesto di poterlo conoscere e incontrare a Milano. Lui è stato ben contento di dedicarmi una mattina e di raccontarmi un po' tutto. Mi è piaciuta quella storia di lui con l'amico milanese, entrambi i ragazzini con le braghette corte che cercano di entrare nelle gallerie d'arte quelle buone e si sentono dire si può mica entrare qui, perché vedevano due ragazzotti che non avrebbero certo potuto essere degli acquirenti potenziali. Invece poi, quando divento un po' più noto, riesco a entrare dove prima non potevo, riesco a conoscere anche degli artisti. E il bello è che loro mi accettano. La cosa più bella è questa, loro mi accettano, sono contenti di vedermi, di avermi tra loro e di parlarmi delle loro cose. Questo è un aspetto molto simpatico. Partiamo da questi dipinti degli anni 50. Tony Dallara diceva, ma sentivo questa parola, sentivo dire pop art e la cosa lo incuriosiva. Ma lo incuriosiva nei primissimi anni in cui si usava questo termine. Quindi questi dipinti sono molto precoci nei riguardi di questo concetto di pop art. Poi ci sono esposti in questa mostra curata da Giancarlo Manco le opere che si riferiscono allo spazialismo. Lui conosce una serie di importanti pittori ancora prima di vincere Sanremo. Anzi, Sanremo gli consente di acquistare uno studio dove può continuare a dipingere e ad accumulare quadri. Però conosce Fontana, conosce in un locale nel quale cantava Crippa, conosce attraverso Crippa Bai. Stava facendo cose che potevano ricordare Bai e diceva, ma anch'io ho fatto i generali con i nastri applicati e non sapevo che li facesse già un artista come Bai. Allora devo cambiare. E allora si mette a frequentare gli spazialisti come lo stesso Crippa, Dova. E va avanti, sperimentando liberamente. Probabilmente l'influenza anche un pochino Burri li va a trovare e si trova accettato da loro. Qui siamo già negli anni, negli anni Ottanta. Volevo mostrare questo in particolare, questo magma, perché lui stesso, parlando dello spazio, si dice, lo spazio è nero ed è silenzio e usa colature di catrame, come in questo caso. E poi si va avanti verso dipinti più recenti, più recenti relativamente, siamo negli anni Ottanta, Novanta. Lo segue sempre la fascinazione per la figura di Marilyn. incoraggiato dallo stesso Andy Warhol, che conosce un giorno a Milano, al quale dice, io ho conosciuto a New York questa donna straordinaria, ne sono rimasto molto affascinato, e Warhol gli dice, vabbè, allora continui. Lui continua a lavorare su quest'icona, su quest'immagine, affascinato forse anche da certe operazioni fatte da Rotella, dallo stesso Warhol, e lavora sull'immagine di Marilyn. Quando va a New York nel 2005, mi pare, porta questa serie di ritratti ai quali tiene molto. E qui ormai siamo arrivati al 2007, e con quest'anno si chiude la sequenza di dipinti che partono dalla fine degli anni Cinquanta. Il fatto di fare lo storico del Nati, ma di essere anche cantautore, secondo me mi ha aiutato, in qualche modo, a lavorare su questa cosa di Tony Dall'Ara, perché non è vero che tenere insieme due vite e due attività sia così difficile, e così problematico. Ci si aiuta a vicenda con le due vite.